dell'oracolo di Omaha ne abbiamo parlato tanto e sicuramente ne riparleremo in altri video e ovviamente sto parlando di Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi faremo sicuramente un altro video dedicato proprio alla sua figura, alla sua vita e al suo portofoglio azionario e non solo alla sua filosofia di investimento ma il video di oggi parlerà invece di un'altra cosa, ovvero della Berkshire Hathaway la domanda è, la Berkshire Hathaway sopravviverà senza la presenza di Warren Buffett? Ciao a tutti i miei stori e benvenuti in questo nuovo video, io sono Fabio e oggi parleremo come già anticipato prima di Warren Buffett, o meglio, della Berkshire Hathaway, sopravviverà senza di lui? Ovviamente sappiamo che Warren Buffett ha una certa età, quindi purtroppo non è bello da dire ma prima o poi ci dovrà essere un sostituto all'interno della Berkshire Quindi, torniamo al core del video La Berkshire sopravviverà senza Warren Buffett? Quando si parla di Buffett e di Berkshire si parla di una storia d'amore infinita Infatti Warren ha comprato azioni Berkshire quando il suo prezzo erano di 8 dollari ciascuna Si parla del lontano 1962 Dal 65 Warren prese la maggioranza, quindi acquisendo potere a seguito delle dimissioni di Jack Stenson nominò Ken Chase al suo posto E da lì trasformò questa azienda, che era un'azienda praticamente diciamo in fallimento Trasformò questa azienda tessile in una holding, reinvestendo continuamente le quote di partecipazione Pensate che la capitalizzazione della holding sotto la dirigenza dell'oracolo di Omaha È riuscita negli anni, quindi fino ai giorni d'oggi, a raggiungere una capitalizzazione di oltre 480 miliardi Con partecipazioni quindi dirette e indirette in diverse società Tra le più grandi società nel mondo Buffett che ha gestito la Berkshire per 53 anni Ha visto un incremento delle quote quindi in borsa di oltre il 20% anno Che ovviamente è molto più alto Quindi è sempre performato alla gran lunga l'SP500 Che ha avuto una media annua diciamo del 9-10% anno Anche da questo possiamo capire come Warren Buffett sia uno degli investitori Se non il migliore investitore di tutti i tempi La sua società ha come abbiamo già detto in un altro video Circa 90 partecipazioni in altre aziende, in diverse aziende Che vanno diciamo dai più svariati settori Diciamo che principalmente però si parla di settore assicurativo, finanziario, ferroviario E legata alla produzione Giusto per inquadrare l'investitore per diciamo esaltare proprio la sua saggezza Possiamo fare un riferimento alle sue parole comunicate durante la crisi del 2008 Diciamo una delle più grosse crisi che ci sono state nel intero mercato Infatti proprio durante la crisi del 2008 Warren tramite le sue parole piene di saggezza Ha descritto nel suo spostamento azionario Dimostrandosi sempre positivo Saldo nei suoi principi Vedendo nella crisi un'opportunità Affermando abbiate paura quando gli altri mostrano avidità E siate avidi quando gli altri mostrano paura Una frase bellissima che rispecchia diciamo un principio Che viene applicato poi dai più grandi investitori quotidianamente Una frase diciamo fantastica che ci segue quindi tutti i giorni E di cui non dobbiamo mai dimenticarcene Ovviamente mostra un atteggiamento che è di controtendenza Rispetto all'emotività di ogni singolo investitore Durante un periodo di difficoltà Un periodo di crisi Ma possiamo già rifarci alla crisi che abbiamo vissuto in edilicente Già da lì Non è stato facile rimanere diciamo saldi e forti in questi principi Poiché a livello teorico è semplice da dire Ma a livello pratico appunto è difficile da fare Nell'ultima crisi invece non si è esposto particolarmente Ma come anticipato comunque il principio diciamo Ha sempre avuto il suo valore E infatti possiamo vedere anche nel video Che abbiamo già realizzato riguardante le azioni più performanti del 2020 Come il mercato azionario si sia ripreso E in diverse aziende c'è stato in realtà anche un grande balzo verso l'alto Sicuramente Buffett è un faro per l'azienda Come un faro per gli investitori grandi o piccoli che siano Questo insieme anche al suo socio Charlie Munger Ma bisogna ricordarsi che comunque Buffett ha 91 anni E Munger ne ha circa 97 Quindi arriverà purtroppo un momento in cui ci sarà un sostituto A tal proposito il leggendario investitore ha nominato come suo successore Greg Abel Uno dei due vice presidenti della holding laureato in economia e specializzato in energia Lunedì 3 maggio Buffett ha comunicato alla CNBC che i direttori sono d'accordo sul fatto che il sostituto Quindi il successore di Buffett sia proprio Greg Abel Quindi se dovesse succedere qualsiasi cosa Greg prenderà a posto di Buffett all'interno della Berkshire Hathaway Abel è stato scelto nell'anno 90 da Walter Scott Jr. dopo essersi fatto notare come contabile all'interno della Call Energy Attualmente è CEO della Benchmark Electronics Membro del consiglio di Kraft e di Hockey Canada Foundation Riassumendo Warren Buffett ha salvato quella che era un'azienda tessile diciamo in rovina L'ha convertita in una holding e ha trasformato questa azienda in un'azienda di successo come la conosciamo oggi E che si è rivelato il suo più grande investimento Se non uno degli investimenti migliori della storia Ma lo stesso protagonista di questa grossa impresa è lo stesso che ha sempre dichiarato Che bisogna investire in un'azienda talmente ben strutturata che può essere guidata da chiunque Quindi ricollegandoci alle sue parole di saggezza Questo ci fa ben sperare in un ottimo e brillante futuro per la Berkshire anche senza la sua presenza Ovviamente non averlo non sarà la stessa cosa Ma in linea teorica Berkshire Hathaway dovrebbe anche sopravvivere senza la sua presenza Inoltre Abel, quindi il suo successore, è stato scelto proprio da Warren Buffett E questo ci fa sperare che sia una persona stra preparata, stra in gambe Sicuramente una persona con tanta esperienza E quindi questo ci dà fiducia e speranza nel futuro dell'azienda Il video di oggi è terminato Fateci sapere comunque nei commenti qual è la vostra opinione A riguardo se secondo voi Berkshire si troverà in grosse difficoltà A seguito proprio della mancanza del più grande investitore di tutti i tempi Vi ricordo di lasciarci un like ed iscrivervi al nostro canale E anche appunto di lasciarci un commento e di seguirci anche su Instagram Ciao a tutti investitori, al prossimo video!